Musica Buon pomeriggio, bentrovati da Andreina Lozito in diretta dalla redazione di Telebari. Futuro incerto per la casa di riposo ex Ompi e i suoi ospiti. Da pochi giorni fa l'ultimo controllo dei NAS, la struttura ha bisogno dell'autorizzazione sanitaria ma ancora prima della messa a norma dell'edificio. Ci spiega tutto Serena Russo. Nel verbale redatto da INAS lo scorso 3 settembre, seconda parte di un controllo cominciato il 31 agosto, si legge testualmente. Non è stato possibile provare l'avvenuta presentazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari della DIA, dichiarazione di inizio attività per la gestione dell'attività connessa alla preparazione delle pietanze. Ancora problemi per l'ex Ompi, la casa di riposo comunale in corso al Cide de Gasperi, le cui vicende più di una volta hanno riempito le pagine dei giornali. Nessuna autorizzazione sanitaria quindi, ma il problema è a monte, perché la stessa non potrà mai essere rilasciata fino a quando la struttura non verrà messa a norma. È dal 2004 infatti che attende i lavori di adeguamento, evidentemente finiti nel dimenticatoio. Nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche dell'amministrazione di Cagno a Brescia, anno 2004-2006, erano stati inseriti nella programmazione, con la destinazione di un importo pari a 600.000 euro. Poi, cambio al vertice, cambio di sorte. Si sono susseguiti anni di silenzio fino a quando lo scorso anno, precisamente a settembre, sulla base di un progetto preliminare il Comune ha aggiudicato l'appalto alla ATI ed il MATSRL alla CR di Lizia Sud, lasciando loro l'onere di redigere il progetto esecutivo, cui poi apporre il definitivo placet da palazzo di città. Pare che tale progetto sia stato presentato circa sei mesi fa, esattamente il termine perentorio, entro cui l'ok del Comune sarebbe dovuto arrivare, ma di nuovo silenzio. Il futuro della casa di riposo dei suoi ospiti appare sempre più incerto. E Simeone di Cagno a Brescia lascia il Consiglio Comunale. Ancora sconosciute le cause della decisione dell'ex sindaco di Bari, ragioni che saranno spiegate dallo stesso onorevole nel corso della conferenza stampa in programma il prossimo venerdì. Energie rinnovabili sugli incentivi oggi in fiera, botte e risposta tra Governo e Regione in occasione della sesta giornata dell'energia pulita. Ci dice tutto Silvia Dipinto. La spending review travolge anche le rinnovabili. Il Governo taglia gli incentivi, la Regione chiede programmazione e sostegno all'occupazione. In fiera va oggi in scena il faccia a faccia tra l'ente di Lungomare Lanzario Sauro e il Ministero dello Sviluppo Economico. L'occasione per parlare finalmente di rinnovabili è la sesta giornata dell'energia pulita, organizzata da Promem Sud-Est. In discussione sono le risorse stanziate da Roma per il quinto conto energia, considerate insufficienti dagli operatori. Un dramma per la Puglia, prima in Italia per potenza installata e che sul boom del fotovoltaico ha visto nascere centinaia di imprese e impiegare migliaia di lavoratori. Ma il Governo risponde tiepido all'accorato appello dell'assessore Loredana Capone. Ci allineiamo agli standard europei, spiega Luciano Barra, il capo della segreteria tecnica del Dipartimento Energia del Ministero. Lo sviluppo non è solo rinnovabili e a noi serve ora usare razionalmente le risorse pubbliche, dice. Una razio che non si piega neppure davanti al rischio licenziamenti. Quello che aggiunge la Regione Puglia è l'esigenza di una programmazione più complessiva nel settore energetico alla quale rispondo che il Governo sta provvedendo, elaborando, siamo nella fase conclusiva, una proposta di strategia energetica nazionale che, dopo una valutazione approfondita da parte del Governo, dovrebbe essere messa in consultazione e ovviamente coinvolgere in primo luogo gli altri soggetti istituzionali, tra cui le Regioni. Quale è il futuro per le province e come si organizzeranno le comunità locali per affrontare la nascita delle città metropolitane? Se ne è discusso oggi in fiera alla presenza dell'assessore regionale Arramo Marida Dentamaro che ha incontrato i sindaci dei comuni interessati del riordino deciso dal Governo. Solo qualche giorno fa il tema era stato al centro di un incontro nel palazzo della provincia di Bari. Cambiamo argomento, la vera pizza barese è ora un marchio che garantisce produttori e consumatori. Per promuoverlo la Camera di Commercio lancia il sito internet e un'applicazione su smartphone. Vediamo. L'autentica pizza barese sbarca sul web. Il marchio registrato dalla Libera Unione dei Commercianti a Puglia, con il supporto di Sameri, laboratorio pubblico della Camera di Commercio, conquista un nuovo sito internet e un'applicazione per smartphone. Tondeggiante con spessore massimo di 2 mm, ottenuta dal sapiente impasso di prodotti pugliesi DOC, farina 00, sale di Margherita di Savoia, pelato, fior di latte barese e olio extravergine d'oliva. E' questa, secondo il disciplinare, l'unica pizza autenticamente barese a chilometro zero, croccante, piegabile, digeribile e a basso carico glicemico. Per promuovere un prodotto tradizionale nell'epoca delle tecnologie 2.0, la Camera di Commercio lancia oggi il sito internet dedicato e un'applicazione per smartphone che permetterà anche di conoscere le pizzerie convenzionate e prenotare un tavolo per passare dalla teoria alla pratica, come spiega Sandro Ambrosi. Questo è un esempio significativo, forse il più facile da intendere a tutti. E' un modo perché una delle nostre grandissime tradizioni, come quella della pizza barese, riconosciutissima da tutti quelli che la conoscono, perché purtroppo non la conoscono in molti, viene coniugato con tutto quello che l'innovazione dà allo scrivere un disciplinare a promuovere la pizza e i luoghi che fanno quella pizza con questo disciplinare, quindi anche nell'interesse del consumatore, a promuoverlo con gli strumenti tecnologici che oggi sono a portata di tutto il mondo immediatamente. Passiamo alla cronaca. Entra in fiera gratuitamente perché a bordo della sua autovettura, munita però di lampeggiante blu e paletta segnaletica, riportante la dicitura Ministero delle Finanze. Scoperto dai carabinieri della stazione di Bariscalo, in servizio di controllo all'interno del complesso fieristico, un pubblico impiegato 62enne barese è stato deferito in stato di libertà con l'accusa di usurpazione di titoli. I militari che lo hanno fermato per un controllo ha dichiarato falsamente che l'auto era di più pretia dell'amministrazione e che la moglie era una pubblica funzionaria. Continuano i controlli dei carabinieri del nucleo radomiobile del reparto operativo del comando provinciale di Bari, finalizzati a contrastare lo spaccio di droga e i reati predatori. Nel quartiere Carbonara i militari hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione di un 59enne trovandolo in possesso di 30 grammi di hashish e 4 di cocaina. In via Alfieri di Ceglie del Campo invece i carabinieri sono riusciti a bloccare una Fiat 500 con due giovani a bordo che trasportavano 100 kg di rame in provenienza furtiva sottoposti a sequestro unitamente al mezzo. Sottoscritto questa mattina a Palazzo di Città un protocollo di intesa tra il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e il Parco Regionale di Lama Balice. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i termini e le finalità dell'accordo ed è stato presentato il primo torneo di basket Torfeo Altamurgia in programma al Palaflorio tra il 15 e il 16 settembre prossimi. Ad illustrarci gli obiettivi il Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Cesare Veronico. Sentiamo. Quest'oggi la firma del protocollo di intesa tra il Parco dell'Alta Murgia e il Parco di Lama Balice quali sono gli obiettivi? Innanzitutto bisogna premettere che Lama Balice nasce a origine nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e quindi verso Bari il perimetro si chiude a Bitonto a Bitonto parte poi il Parco Regionale Lama Balice quindi in realtà c'è contiguità tra i territori è una collaborazione assolutamente naturale. Per quanto riguarda le iniziative noi siamo stati vittime entrambe degli incendi questa estate quindi progetteremo insieme un'azione di contrasto agli incendi boschivi e che sono stati a mio avviso dolosi. E poi ci sono... facciamo entrambi un grande lavoro sull'educazione ambientale. Nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia quest'anno abbiamo ospitato oltre 12.000 studenti e quindi anche sull'educazione ambientale possiamo avviare progetti insieme. In chiusura il meteo cielo sereno 20 moderati temperature comprese tra i 28 e i 30 gradi. Io vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net E per questa edizione è tutto vi saluto e vi auguro una buona giornata.